Disimballaggio e impostazione della foratrice del finisher interno LaserJet 155P7A, 155P8A, 155P9A. Questo video dimostra come disimballare e impostare la foratrice del finisher interno HP LaserJet. Iniziare tagliando il nastro e aprendo la scatola. Rimuovere la guida all'installazione e la gomma piuma di spedizione. Quindi rimuovere la foratrice e gli accessori. A questo punto è possibile preparare il finisher interno per installare la foratrice. Rimuovere il finisher interno dalla stampante e collocarlo su una superficie di lavoro piana. Rimuovere le due viti che fissano il coperchio posteriore. Rimuovere il coperchio posteriore. Rilasciare il cavo dal connettore sul telaio. Spingere verso l'alto la parte inferiore del perno, quindi estrarre il perno della cerniera. Aprire il coperchio anteriore sull'altro lato del finisher interno. Premere la levetta di rilascio verde per sganciare e rimuovere il percorso della carta. Qui è possibile vedere il canale sulla foratrice. Il perno di allineamento sul finisher interno verrà inserito nel canale della foratrice. Posizionare la foratrice sul finisher interno e inserire il perno di allineamento nel canale. Spingere la foratrice nel finisher interno fino a bloccarla in posizione. Accertarsi che i cavi sull'altro lato siano instradati attraverso l'apertura nel telaio. Chiudere lo sportello anteriore. Sull'altro lato del finisher interno riposizionare il perno della cerniera. Inserire i due cavi della foratrice nei connettori del telaio. Riposizionare il coperchio posteriore. Riposizionare le due viti che fissano il coperchio posteriore. Quindi aprire lo sportello anteriore. Premere la levetta di rilascio verde per sganciare la foratrice. Premere il fermo verso il basso e rimuovere il coperchio dello scomparto di raccolta scarti della foratrice. Far scorrere lo scomparto di raccolta scarti della foratrice in posizione. In seguito, installare il coperchio della levetta di rilascio. Spingere la foratrice nel finisher interno fino a bloccarla in posizione. Chiudere lo sportello anteriore. Se non è già installato, allineare il binario laterale destro sui distanziatori metallici e abbassarlo in posizione. Installare le tre viti che fissano il binario di scorrimento. Posizionare il binario di scorrimento sinistro sui distanziatori metallici e abbassarlo in posizione. Installare le tre viti che fissano il binario di scorrimento. Spingere i binari di scorrimento verso la stampante. Staccare l'etichetta del coperchio sul connettore. Allineare le guide sul fondo del finisher interno ai binari di scorrimento della stampante. Spingere il finisher verso la stampante. Aprire lo sportello anteriore. Tirare indietro la levetta di rilascio e accertarsi che il finisher si è inserito correttamente. Chiudere lo sportello anteriore. Sollevare e tenere fermi i rulli umidificatori di uscita per spostarli. Inserire le linguette del vassoio di uscita nelle fessure presenti sul finisher e abbassarlo in posizione. Installare le quattro viti per fissare il vassoio di uscita al finisher. Inserire il cavo nel connettore. Collegare il cavo di alimentazione a una presa a muro. La foratrice del finisher interno e la stampante ora sono pronti all'uso. Per trovare video HP in altre lingue, fare clic sulla scheda Playlist in YouTube. Cercare nel nostro canale i video ufficiali del supporto HP. Grazie. 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 Grazie.